unità 48 conversazione ascoltate allora quando vuoi andare al supermercato andiamoci subito ci sarà meno gente di cosa hai bisogno di tutto il frigorifero e la dispensa sono vuoti andiamo dunque no aspetta prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla ripetete 1 allora quando vuoi andare al supermercato 2 andiamoci subito ci sarà meno gente 3 di cosa hai bisogno 4 di tutto il frigorifero e la dispensa sono vuoti 5 andiamo dunque 6 no aspetta prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla rispondete e ripetete 7 allora quando vuoi andare al supermercato 8 andiamoci subito ci sarà meno gente 9 di cosa hai bisogno 10 di tutto il frigorifero e la dispensa sono vuoti 11 andiamo dunque 12 no aspetta prima voglio farmi una lista per non dimenticare nulla ascoltate dobbiamo prendere della carne sì non ce n'è più nel congelatore che cosa prendiamo un arrosto di vitello delle scaloppine un po di carne tritata un grosso pezzo d'arrosto sì dopo se mai lo taglierò in due ripetete 13 dobbiamo prendere della carne 14 sì non ce n'è più nel congelatore 15 che cosa prendiamo 16 un arrosto di vitello delle scaloppine un po di carne tritata 17 un grosso pezzo d'arrosto 18 18 sì dopo se mai lo taglierò in due rispondete e ripetete 19 dobbiamo prendere della carne 20 sì non ce n'è più nel congelatore 21 che cosa prendiamo 22 un arrosto di vitello delle scaloppine un po di carne tritata 23 un grosso pezzo d'arrosto 24 sì dopo se mai lo taglierò in due ascoltate e formaggio ne vuoi sì di vari tipi parmigiano stracchino un po di pecorino qualche mozzarella servono altri latticini certo c'è bisogno di burro yogurt naturali alla frutta panna fresca per fare la salsa delle scaloppine e nient'altro vedi se ci sono ancora delle uova rispondete e ripetete 31 e e formaggio ne vuoi 32 sì di vari tipi parmigiano stracchino un po di pecorino qualche mozzarella 33 servono altri latticini 34 certo c'è bisogno di burro yogurt naturali alla frutta panna fresca per fare la salsa delle scaloppine 35 e nient'altro 36 vedi se ci sono ancora delle uova ascoltate di surgelati ne prendiamo quali vorresti del pesce ma tutto sommato è migliore quello fresco non ti pare è vero ma potremmo comprare qualche verdura io preferisco quelle in scatola io invece quelle surgelate anche se costano un po di più ripetete 37 di surgelati ne prendiamo 38 quali vorresti 39 del pesce ma tutto sommato è migliore quello fresco non ti pare 40 è vero ma potremmo comprare qualche verdura 41 io preferisco quelle in scatola 42 io invece quelle surgelate anche se costano un po di più rispondete e ripetete 43 di surgelati ne prendiamo 44 quali vorresti 45 del pesce ma tutto sommato è migliore quello fresco non ti pare 46 è vero ma potremmo comprare qualche verdura 47 io preferisco quelle in scatola 48 io invece quelle surgelate anche se costano un po di più ascoltate già che siamo qui non potremmo passare un momento al reparto confezioni della rinascente giusto avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di daino inoltre se francesca va in colonia dovremmo prenderle un golfino e una camicetta sì in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti non hai voglia di prenderti una tuta perché no potrei usarla il fine settimana adesso che siamo in periodo di saldi in realtà ne vale la pena ripetete 49 già che siamo qui non potremmo passare un momento al reparto confezioni della rinascente 50 giusto avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di daino 51 inoltre se francesca va in colonia dovremmo prenderle un golfino e una camicetta 52 sì in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti 53 non hai voglia di prenderti una tuta 54 perché no potrei usarla il fine settimana 55 adesso che siamo in periodo di saldi 56 in realtà ne vale la pena rispondete e ripetete 57 già che siamo qui non potremmo passare un momento al reparto confezioni della rinascente 58 giusto avresti bisogno di un paio di pantaloni per la giacca di daino 59 inoltre se francesca va in colonia dovremmo prenderle un golfino e una camicetta 60 in questo momento fanno delle offerte speciali molto convenienti 61 non hai voglia di prenderti una tuta 62 perché no potrei usarla il fine settimana 63 adesso che siamo in periodo di saldi 64 in realtà ne vale la pena ascoltate vorremmo un paio di pantaloni che stiano bene con questa giacca ha già visto qualcosa di suo gusto che taglia porta di solito la 48 ma in questo modello mi sembra grande la provi le cabine sono lì già che ci siamo vorrei provare anche quell'altro paio rispondete e ripetete 71 vorremmo un paio di pantaloni che stiano bene con questa giacca 72 ha già visto qualcosa di suo gusto 73 che taglia porta 74 di solito la 48 ma in questo modello mi sembra grande 75 la provi le cabine sono lì 76 già che ci siamo vorrei provare anche quell'altro paio ascoltate che te ne pare stringendoli un po in vita vanno bene e gli altri come vanno non è un modello che mi piace molto non è un modello che mi piace molto ma nessun dubbio prendo questi d'accordo signore si accomodi alla cassa rispondete e ripetete 83 che te ne pare 84 stringendoli un po in vita vanno bene 85 e gli altri come vanno 86 non è un modello che mi piace molto 87 no nessun dubbio prendo questi 88 d'accordo signore si accomodi alla cassa unità 48 dal vivo ascoltate buongiorno passando ho visto in vetrina quel comò quanto costa 7 milioni e mezzo è del secolo diciottesimo un pezzo unico catalogato trovare un comò come quello e in così buono stato è estremamente difficile il prezzo è fisso naturalmente pensi solo che in un'asta le costerebbe molto di più ma abbia pazienza ma devo pensarci è una somma considerevole e preferisco tornare con mio marito vedrò se riesco a convincerlo ad ogni modo grazie e arrivederla ripetete buongiorno passando ho visto in vetrina quel comò quanto costa 7 milioni e mezzo è del secolo diciottesimo un pezzo unico catalogato trovare un comò come quello e in così buono stato è estremamente difficile il prezzo è fisso naturalmente pensi solo che in un'asta le costerebbe molto di più abbia pazienza ma devo pensarci è una somma considerevole preferisco tornare con mio marito vedrò se riesco a convincerlo ad ogni modo grazie e arrivederla ascoltate può venire un momento nel mio ufficio gabrielli devo parlarle vengo subito signor direttore abbiamo deciso di aprire un altro negozio a cremona e pensiamo che lei possa assumere l'incarico di responsabile della contabilità si sente di accettarlo la ringrazio di aver pensato a me è una proposta molto interessante ma mi consente di pensarci sopra le risponderò entro una settimana devo parlare con mia moglie naturalmente mi rendo conto che non è una decisione da prendersi su due piedi ripetete può venire un momento nel mio ufficio gabrielli debbo parlarle vengo subito signor direttore abbiamo deciso di aprire un altro negozio a cremona e pensiamo che lei possa assumere l'incarico di responsabile della contabilità si sente di accettarlo la ringrazio di aver pensato a me è una proposta molto interessante ma mi consenta di pensarci sopra le risponderò entro una settimana devo parlare con mia moglie naturalmente mi rendo conto che non è una decisione da prendersi su due piedi ascoltate allora facciamo una partita a tennis o una nuotata in piscina ti sei deciso ancora no che barba con te non c'è modo di capire cosa vuoi fare sei sempre lo stesso non decidi mai non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io sono fatto così che vuoi di farci ripetete allora facciamo una partita a tennis o una nuotata in piscina ti sei deciso ancora no che barba con te non c'è modo di capire cosa vuoi fare sei sempre lo stesso non decidi mai non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io sono fatto così che vuoi farci non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io non c'è bisogno che tu te la prenda tanto io Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.